Salve carissimi amici tuttubi, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla Questo è un video che esula dalla normale programmazione del canale, l'avete penso più o meno intuito Perché è un video di servizio, è un video nel quale vi parlo effettivamente, è un vlog se vogliamo in cui vi parlo di cose legate al canale e alla sua evoluzione È una cosa che stavo pensando da un po' per tanti motivi, sento che però sia giunto il momento di parlarne direttamente con voi Perché ci saranno dei cambiamenti che arriveranno nel corso delle prossime settimane per questi determinati motivi Si tratta proprio di non è un vi chiedo che cosa ne pensate, è quasi più un le cose andranno così Però come al solito spazio commenti qui sotto nella discussione, siete piuttosto liberi di dirmi le vostre opinioni, dirmi i vostri pensieri su questa cosa Su come l'ho pensata, che cosa ne pensate voi Fondamentalmente questo canale nasce con l'intenzione di creare una sorta di dialogo sui fumetti che mi sono piaciuti, che non mi sono piaciuti Per poterne proprio dialogare con voi, chiacchierare eventualmente con gli altri appassionati che seguono questo canale In virtù di questo, quindi, quello che ho notato e sto notando è che effettivamente per come l'ho strutturato nel corso di questi anni il canale In realtà faccio un video al giorno nel quale vi parlo effettivamente delle mie impressioni sulle letture che faccio E quindi, ok, effettivamente è quello che vorrei fare Il problema è che, secondo me, non riesco a valorizzare certi determinati prodotti che quindi hanno delle visualizzazioni anche piuttosto basse E rischio di valorizzare in maniera eccessiva prodotti che magari sono carini, magari non sono carini Ma che hanno un loro quantitativo di visualizzazioni anche piuttosto importante rispetto alla media del canale Ma dei quali ho molto poco da dire, poco o nulla Il rischio c'è ed è concreto, basta vedere settimana scorsa con Io, Pippo il video dedicato a quel volumetto Disney Nel quale vi ho parlato praticamente per sette minuti, sette minuti e mezzo di questo volume Ma del quale non avevo, non c'era sostanza, non c'era molto da dire Mentre invece determinati altri video su volumi che magari mi sono piaciuti tantissimo Che volevo, che venissero visti, volevo far conoscere determinati prodotti, determinati albi Ma che forse oppressi dalla mole di altri video prodotti nel corso della settimana Sono stati completamente offuscati proprio da tanti altri video che sono arrivati E sono andati un pochettino a perdersi Quando invece magari su quel video, non dico che ci avessi puntato particolarmente Però effettivamente, vedere che ho video nel canale che hanno 30 visualizzazioni E video che ne hanno 1000, 1500 Fa strano per la disparità che c'ha Chiaro che i video che hanno 1000 visualizzazioni sono pochissimi sul mio canale E soprattutto non lo faccio effettivamente per le visualizzazioni D'accordo? Cioè, il discorso che sto facendo è in parte legato alle visualizzazioni In parte anche no Anche perché la risoluzione che mi è venuta in mente In realtà non tange effettivamente quello che leggerei Ok? Andiamo per gradi Uno dei motivi, forse uno dei più grossi è questo Che il rischio di non valorizzare prodotti che meriterebbero una valorizzazione E il rischio di invece stravalorizzare prodotti che non ha molto senso valorizzare E questo qui è un dato di fatto fondamentale L'altro è che per l'appunto io mi ritrovo magari a dover gestire la settimana Ormai avete visto che più o meno il lunedì c'è il video su Topolino Il martedì c'è il video dedicato ad un volume della Sergio Bonelli editore Il mercoledì c'è un video dedicato ai fumetti americani Tendenzialmente DC Comics Il giovedì bene o male c'è un volume italiano Il mercoledì c'è un altro video Disney Grosso modo era questa più o meno la scansione della settimana Che da un lato è vero che io leggo tante cose diverse Quindi grosso modo ci rientravo Però magari capita Come ad esempio mi è capitato effettivamente In questi giorni Che guardo la libreria con le cose che devo leggere Perché ho una libreria apposta per le cose che devo leggere Tra l'altro devo leggere anche tutta sta colonna qua di roba Quindi figuriamoci La guardo e dico cavolo mi piacerebbe leggere questa cosa qui Però non rientra nella programmazione del canale E questo mi ha dato modo di pensare parecchio Quindi da un lato il dover seguire uno schema Per forza di cose quello È un po' limitante Cioè funziona ma può essere limitante Dall'altro lato il vedere che i prodotti vengono valorizzati poco Mi viene in mente Babau Che non ha neanche 50 visualizzazioni Eppure a me quella storia è piaciuta tantissimo E pensavo proprio che il video riuscisse a dargli un pochettino di risalto Probabilmente non ce l'ho fatta Quindi faccio anche un mea culpa Però ecco C'è questa cosa qui che mi sta un attimino facendo dei tarli Ok? E quindi che cosa ho pensato? Ho pensato a questa cosa qua Cambiamo totalmente il modo di gestire il mio canale L'idea di fondo è quella che Alcune cose Una cosa rimane fissa Ed è il topolino Il topolino è lunedì Un appuntamento fisso Non solo perché va piuttosto bene sul canale È comunque un video che mi dà Quel numero di visualizzazioni abbastanza fisse Nel lunedì Ma poi il topolino è tendenzialmente una lettura Che voglio fare Mi appresto a fare appena mi arriva Proprio interesse Voglia di leggerlo Mi lamento quando non mi arriva l'abbonamento Cerco di leggerlo in digitale Proprio per recuperarlo Perché lo voglio leggere effettivamente La prima possibile E quindi Magari se non mi arriva cartaccio Aspetto un giorno Però intendiamoci Entro il fine settimana Lo voglio aver letto Quindi il lunedì Il video sul topolino Dovrebbe rimanere Rimane un appuntamento fisso Non dovrebbe rimanere un appuntamento fisso Che sarà però L'unica cosa Che rimarrà costante Ci sarà Un giorno alla settimana Che presumo sarà il mercoledì Anche un attimino Per distanziare le cose In cui farò Una video lettura Delle letture fatte Precedentemente Con questo quindi Vado a coprire Sicuramente Con un video unico Dedicato Alle video letture Probabilmente Dedicherò Meno tempo Ai singoli volumi Ed è un Probabilmente Perché Comunque se ne ho Una pila Tanta Non posso dedicare Dieci minuti Ad ogni volume Anche per non far diventare Il video Eccessivamente lungo Però L'intenzione È proprio questa Cioè Parlarvi Magari Di Di più volumi Di quanti Riuscirei a fare In questo momento In maniera Magari un pochettino Più sintetica Ma comunque Cercando di essere Il più completo E concreto Possibile Non so ancora Se ci riuscirò E come ci riuscirò Però Effettivamente L'intenzione è quella Quindi Probabilmente Il mercoledì Dicevo perché Voglio distanziare Un pochettino Le cose In modo tale Da non avere Lunedì Martedì Poi niente Tutta la resta della settimana È bruttino Non ha senso E quindi Tac Tac E in questo modo qui Avrei comunque Modo di parlarvi Di un pochettino Tutto Tranne se Ho voglia di Parlarvi di un volume Specifico Di uno story Specifico Di una serie Nello specifico Per il quale Farò Per il quale farò Un video Dedicato Quindi Che probabilmente Uscirà a questo punto Di venerdì Ma potrebbe essere Qualunque altro giorno Metti Quella settimana lì C'ho due volumi Di cui voglio fare Il focus Lo posso fare Si tratta questa Di una scelta Anche legata Soprattutto Alla volontà Di dare Valore E risalto A qualcosa Che magari Merita Valore E risalto Per cui penso Che Dedicare Una giornata A quel volume Abbia senso Piuttosto che Farlo Perché effettivamente Il canale Si giostra Sul martedì Video Bonelli Mercoledì Video DC A subirne Probabilmente Un pochettino Le conseguenze Saranno Volumi Disney Secondari Alcuni video Della Sergio Bonelli Editore Che vanno anche In realtà Anche piuttosto bene Quindi in realtà Vado anche Contro i miei interessi Se ci pensate O Volume Disney Quali potrebbero essere L'io virgola pippo Di cui Parlavo poco fa Che È andato piuttosto bene A livello di visualizzazioni Però non Cioè Non dico che non abbia senso In generale Non ha senso Dargli Troppo Tutto quel valore Tutta quella importanza Albi di alcune serie Regolari Che leggo E magari mi piacciono anche Farci il video Dedicato Comincia a essere Effettivamente Secondo me È un filo troppo pesante E rischia di coprire Delle perle Dei gioielli Delle piccole cose Che invece Meriterebbero Un'attenzione diversa Che E viene di fatto Obnubilato Da La molle di materiale Che produco In questo momento Quindi Ribadisco Appuntamenti fissi Sicuramente il topolino E diventerà Appuntamento fisso La video lettura Della settimana Precedente Questo perché Comunque di materiale Ne leggo E L'altra cosa Importante Di questa Cosa In quest'ottica Qui È che Magari questa Settimana Leggo 6-7 albi Settimana Che non riuscirei a coprire Cioè copro più di una settimana La settimana dopo Magari per alcuni impegni Riesco a leggere Solo tre albi Parlerò solo di tre albi Non è un grosso problema Capite? Cioè Ho anche modo di Giostrarmi Meglio il mio tempo libero Su quello che voglio fare Che principalmente Leggere Però magari un giorno Non c'ho voglia E invece devo leggere Per fare il video Ed è una cosa che Comincia Cominciavo Sto cominciando a sentire Ed è Bruttina Come sensazione Ovviamente Non mancheranno Appuntamenti Periodici Quali L'analisi Dell'anteprima Se reputo Che l'analisi Dell'anteprima Sia importante farla Perché magari ci sono Delle uscite interessanti Lato Disney E in virtù di questo Anzi Vi segnalo che Molto probabilmente Come il mese scorso Anzi Farò una live Dedicata Però ecco L'intenzione è proprio quella di Ci posso dedicare il tempo Ci posso dedicare anche una live Anche per poterne Discutere Dialogare con voi Poi eventualmente Se avete dubbi Domande Vogliete fare delle chiacchiere Proprio chiacchiere Va benissimo Va benissimo Facciamolo tranquillamente Che sia effettivamente Quello per cui Ho fatto nascere Questo canale Quindi Un dialogo Con voi utenti Quindi da un lato Ci sarà sicuramente L'appuntamento periodico Di anteprima Sezione Disney Ci saranno Eventuali approfondimenti Per dire Per quanto io abbia Parecchio materiale Di cui voglio fare Il video specifico Per questa settimana qui Probabilmente Slitterà qualcosa Alla prossima Lo anticipo già Perché effettivamente C'ho troppa roba In ballo E di alcune Voglio proprio parlare Ma ci tengo anche A farci il video dedicato E presumo che su alcune Di queste Li vedrete Senza problemi Di visualizzazioni Per dirvi Una cosa Che ho ascoltato Quest'oggi E' stato il resoconto Fatto da Alex Bertani Al Cartomics Dove sono uscite Alcune iniziative Disney Delle quali Penso di volermene Parlare E sto valutando Adesso mi riguarda Un attimino L'elenco del materiale Che è stato Annunciato E valuto Se fare il video O meno Che nel caso Vedrete domani Ecco E mi interessa Quindi fare video Magari Più interessanti O potenzialmente Più interessanti Che reputo Più interessanti Che non farvi Video che magari Non vi interessano Perché poi effettivamente È anche questa Un po' la cosa Che evidentemente Se ci sono Poche visualizzazioni Non vi interessano Questo non vuol dire Che io Non leggerò Ok Quei volumi Ok Li leggo sicuro E probabilmente Ne parlerò Meno approfonditamente Proprio nelle video letture Della settimana Sto ancora valutando Se chiamarle effettivamente Video letture della settimana Però è un po' una soluzione Che secondo me Riesce a coprire tutto Quindi Video del topolino Alcune appuntamento Fisso Video dedicati Solo su serie Volumi Archi narrativi Per cui Penso che valga la pena Fare un punto Della situazione Di quello che ho letto E video letture Delle settimane Tutte le settimane Con Tutte le altre letture Che magari Mi sono piaciute Che per cui Finora Avrei fatto Un video dedicato Ma che magari Non ha poi troppo senso Farci un video dedicato O che magari Potrebbe averne senso Ma magari no Insomma Queste cose Un po' nel limbo E Probabilmente Tutta la roba di sì Che leggo Tutta la roba Bonelli Che leggo Come serie regolari Finirebbero un po' In questo limbo qua Non tutto Non tutto Perché Visto che le ho cominciate Visto che sono Indirittura d'arrivo Alcune serie Le chiudo Effettivamente Per come Sono nate Per come Sto facendo i video Fino a questo momento Sto pensando Principalmente Alla Torrosa Library Al Dylan Dog Di Tiziano Sclavi E alcune serie Di sì Per cui magari Manca un numero Due numeri Faccio il video Dedicato Ok Però per il resto Comincerò a trasferire Tutto Nelle video opinioni Della settimana So che questa Arriva proprio come Notizia Un po' così Exabrupto Un pochettino Brutale Un po' Per effettivamente Fare Fare delle letture Controvoglia Rischia di Non farmi avere Neanche voglia Di fare il video O di parlarne Un pochettino Senza lo stesso Entusiasmo Che avrei in altre occasioni E quindi E quindi magari Mi concentro Effettivamente Solo su quello Che voglio fare Voglio effettivamente Leggere E ve ne parlo Magari con Più passione E più voglia Di farlo Quindi Secondo me Anche il canale Ne potrebbe Giovare Un pochettino Di più E questo è quanto Avevo da dire Per oggi Qui sotto Nel spazio dei commenti Aspetto Vostre Opinioni In merito Che cosa ne pensate Di questi Cambiamenti Cosa vi preoccupa Cosa non vi preoccupa Quali effettivamente Seri Eventualmente Vorreste Vedere Portate avanti Così come sono Adesso E quali Invece Eventualmente Mi potrebbe dire Ehi Fai pure Tutti Fai pure Il video unico Su tutto Che tanto Non l'avrei visto Comunque Oppure Mi va bene Comunque Comunque E roba di cui ne parlo Ok Farò più o meno Quello che avrò fatto Per Quando ho fatto Quella sorta Di quasi Sperimento In merito Su alcuni Volumi Della Sergio Bonelli Dove parlavo Di tre Volumi Tre quattro Volumi Più o meno Un'edizione Quella Quindi Comunque Mi sembra Di poterne Parlare In maniera Approfondita Quanto serve E me la smetto Di parlare Perché sennò Il video diventa Troppo lungo E non ne ha Troppo senso Qui da Francesco I pop E le mie spalle Dalla soffitta Di camera Viene più soffitta È tutto E ci vediamo Dulla prossima Video Opinione Del canale Ciao